Pubblicato il Decreto Lavoro Recante Misure Urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. Il provvedimento contiene numerose azioni concrete rivolte a famiglie, lavoratori e imprese con l'obiettivo di favorire e incentivare l'inclusione nel tessuto produttivo e l'accesso al mondo del lavoro. Fra queste, l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro. L'assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal 1 gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'Ise, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. E' riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente con disabilità, minorenne, con almeno 60 anni di età o in condizione di svantaggio e inserito in programma di cure e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. Per quanto riguarda il supporto per la formazione e il lavoro istituito dal 1 settembre 2023, si tratta di partecipazione a progetti di formazione, di riqualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del supporto rientrano anche il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Il supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai singoli componenti dell'unclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell'ISE familiare non superiore a Euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione. Un'altra novità del decreto lavoro riguarda il taglio di 6 punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori subordinati, che guadagnano fino a 35.000 euro l'ordi annui, per il periodo di paga da luglio a dicembre 2023, e di 7 punti percentuali, quello per chi guadagna fino a 25.000 euro, comportando un aumento delle buste paghe per circa 14 milioni di lavoratori. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociale www.lavoro.gov.it